Facciamo due video diversi vs . . . . . . ? ? ? ? Ok, adesso vediamo un impattarci ancora No, ce l'ho sceso ancora un blocco Sì, ti da non spegnere No, vabbè, dovresti andare dritto e adagio Ce ne andiamo? Dai, basta, non l'ho già maltrattata troppo Chi l'era? Chi l'era? Chi l'era? Soprattutto? Te Amore, un po' non mi senti Visto Chi l'era? Chi l'era? Chi l'era? Chi l'era? E free Grazie a tutti Grazie a tutti